Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che non vedevi da tanto e dopo due parole capisci che per te quel tempo non è mai passato? Che ricordi dei momenti passati insieme sono così vivi da sembrare appena accaduti. Ecco alla cena, noi eravamo quelli a cui il tempo era passato, lui era l'altro.